Diciamo che tu voglia raccogliere i contatti delle persone che ad esempio visitano il tuo sito internet non vuoi lasciarle andare vuoi in qualche modo ricontattarli per il futuro come puoi fare questa è la domanda e la risposta te la darò in questo video tutorial dove ti mostrerò non solo come creare moduli e pop up ovvero dei sistemi per raccogliere i tuoi contatti ma lo farò mostrandoti template ed esempi concreti passo passo ma non solo resta fino alla fine perché ti mostrerò un'altra serie di risorse che ti potranno aiutare a farlo sempre in maniera completamente gratuita e per approfondire meglio questo discorso perché ho l'automatiker e futuro automatiker io mi chiamo Stefano e ti do il mio personalissimo benvenuto in automaticing la prima è unica academy che in Italia e in Europa ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business se non sai da dove iniziare ma vuoi iniziare veloce veloce ebbene iscriviti alla nostra newsletter automaticing.com slash gratis ti ci iscrivi gratis e ricevi ogni settimana ben tre strumenti che ti aiuteranno a vendere di più senza stress grazie alle automazioni di business allora ti faccio vedere direttamente senza bando alle ciance e ciancio alle bande ti faccio vedere lo strumento che utilizziamo oggi che ti può aiutare a ottenere i contatti questo a raccogliere le persone ma soprattutto a creare clienti a vendere online a creare dei funnel delle attività di automazioni legate all'email marketing e appunto tutto quello che ti può servire anche in base alla tua professione non va nulla che sei un imprenditore un imprenditrice un marketer un manager o via dicendo get response è quello che può fare per te soprattutto lo può fare gratis caso mai aperto e chiusa parentesi tu voglia in futuro investire su uno dei piani a pagamento vai a vedere nel link che c'è in descrizione che ci trovi un bel link con uno sconto del 10% perché hai visto mai perché lo vuoi pagare il più altrimenti fai tutto quello che ti mostrerò la maggior parte lo fai in modo assolutamente del tutto gratuito ti dicevo siamo all'interno dell'area riservata di get response e tra i tanti strumenti ci puoi fare email marketing ci puoi gestire un autoresponder che è un modo per gestire le mail in automatico ci puoi fare addirittura gratis su un sito internet puoi farci landing page puoi avere i tuoi report puoi avere i tuoi flussi di automation puoi farci marketing attraverso i webinar e attraverso i funnel puoi fare tante tante robe oggi ci concentreremo sulla sezione moduli e pop up e questa è una sezione che ti faccio vedere è carinissima perché ti permetterà di creare queste call to action questi inviti all'azione ovvero la persona sta leggendo un articolo sta leggendo una pagina sta leggendo una risorsa e tu gli dici ehi ma perché non ti scrivi che magari ti mando a casa un bel ebook ad esempio su come sviluppare una strategia di email marketing automation ti interessa mi vuoi lasciare un contatto in cambio così che io poi ti possa magari contattare qualora non lo so abbia altre cose per approfondire questo tema ebbene quello è quello che serve un coupon sconto puoi utilizzare puoi utilizzare il tuo libro fisico puoi utilizzare un invito a un evento che stai organizzando tante belle cose ma se non raccogli tecnicamente il contatto se non ce l'hai il numero di cellulare di una persona come la chiami? ecco se non ce l'hai l'email almeno di una persona come la chiami? e in generale come puoi raccogliere i loro contatti? puoi utilizzare lo strumento moduli e pop up qual è la differenza? te li faccio vedere subito partiamo dall'inizio un modulo non è che altro che questa cosa qui una posizione di un modulo di iscrizione quindi utilizzi questa voce un banner, delle barre promozionali oppure tutto quello che tu vuoi all'interno di una pagina infatti te lo dice è integrato nella pagina è una specie di banner è un elemento all'interno di un'altra pagina che ti permette di fare questa cosa qui ora ti sarà tutto più chiaro perché ti faccio vedere dei template carinissimi e degli esempi un pop up invece è un'attività promozionale che si avvia come un pop up come una finestra che si apre mentre tu stai navigando lo puoi utilizzare sia come avviso magari dettato da uno scroll per esempio la persona arriva a un determinato punto della visualizzazione della pagina e sbam! gli apre una call to action del tipo ti vuoi iscrivere alla nostra newsletter oppure se hai un e-commerce hai un'attività commerciale la persona lascia la pagina sta lì lì per chiudela e sbam! un bel pop up che gli dice ehi prima di andare via sei sicuro? sei sicuro che mi vuoi lasciare? magari senza questo codice sconto idee di cose che si possono fare utilizzando elementi come i moduli, i pop up andremo a creare prima un elemento integrato nella pagina come un modulo il builder è molto simile ma soprattutto è molto simile il vantaggio che ti dà GetResponse perché hai tanti template uno più figo dell'altro puoi averli tutti o puoi filtrarli addirittura per una categoria ma come vedi ce ne sono tanti e sono delle finestre delle barre dei banner degli elementi come ti dicevo che ti permettono tu volendo vuoi anche fare un'anteprima questo elemento qui si va a integrare nella tua pagina perché è un modulo le persone ti lasciano nome e email ed è fatta ricevono quello che vogliamo ora diciamo che noi volessimo utilizzare questo elemento andiamo a fare su usa template in automatico ti si apre l'elemento diciamo di grafica che tu hai all'interno di GetResponse all'interno e hai un elemento un builder grafico che ti permette di personalizzare di tutto praticamente tutto qui in altro hai la possibilità di andare avanti e indietro salvare eventualmente questo elemento la possibilità di salvarlo la trovi anche qui in alto puoi vedere direttamente l'anteprima di come funziona senza dover aprire null'altro la versione di come si vede sul desktop e di come si vede in automatico anche sul mobile già ottimizzato andare avanti per finire la configurazione e poi hai le due pagine del modulo perché il modulo si compone del contenuto principale quello che ti stai guardando ma una volta che qualcuno clicca qui che facciamo non gli diciamo almeno un grazie e quindi hai la seconda pagina per entrambe se devi modificare un testo semplicemente ci vai dentro e scrivi grazie se vuoi cambiare ad esempio il tipo di font il tipo di carattere vogliamo andare a utilizzare un carattere differente lo possiamo andare a cambiare senza problemi quindi lo selezioni e lo andiamo a modificare possiamo andare a modificare ovviamente allo stesso modo non solo il testo ma anche tutti i colori del testo che ci sono all'interno quindi possiamo andare a scegliere che il colore magari deve essere in linea con il tuo brand e possiamo utilizzare ad esempio questo viola se dobbiamo andare a modificare l'immagine come vedi il menu che si apre nella parte destra è sempre contestuale che cosa vuol dire? vuol dire che in base all'elemento in cui fai clic su cui fai clic ti si aprono le opzioni migliori per quell'elemento quindi per esempio submit o su un pulsante si aprono per esempio i campi diciamo che noi vogliamo aggiungere altri campi ebbene lo possiamo fare da questa cosa qui e lo possiamo andare ad aggiungere per esempio o altre per esempio vogliamo chiedergli il cognome vogliamo spostare il cognome in alto anche in questo caso non ci sono problemi vogliamo andare a modificare l'etichetta o vogliamo rendere il campo obbligatorio normalmente in questo caso non lo salviamo ma normalmente il campo email è per default obbligatorio cioè in automatico qui il sistema ti va a richiedere il campo obbligatorio dell'email che è l'abc se fai delle modifiche vai su salva e lo hai salvato puoi andare a vedere altre configurazioni come le impostazioni dell'iscrizione eventualmente a quale lista vuoi che si iscrivano eventualmente voglio andare a lavorare su alcune parti di design impostazioni del blocco quindi magari vuoi un colore vuoi vedere del bordo vuoi vedere piccole cose estetiche su cui ti lascio giocare perché questo è davvero la parte più semplice per l'immagine ancora una volta puoi andarla a sostituire puoi integrare un file da un'orl puoi andare a personalizzare il tasto il testo alt che è il testo guarda è tutto semplicissimo perché ti viene scritto che viene che compare al posto di un video o di un'immagine in questo caso un'immagine che non si carica viene inoltre letto a voce alta dai lettori di schermo quelli per esempio per le persone non vedenti ipovidenti o che hanno delle capacità di leggere diciamo di lettura con difficoltà tu li aiuti a capire che qui per esempio c'è una ragazza che sta indicando quindi tu puoi utilizzare anche spesso la parola chiave insomma puoi andare a personalizzare questo tipo di messaggio una volta che l'avrai fatto adesso per gli scopi didattici non mi integro cioè non mi vado a dilungare perdonami lo chiami test modulo o lo chiami come a te interessa vai a vedere quale pagina e qui diciamo ci sono le due strade dove vuoi che questo scusami questo modulo appaia in una pagina specifica o un intero sito web ok in questo caso vogliamo che appaia in una pagina specifica e nel caso lo aggiungiamo mostra se l'url è il seguente gli metti l'url e lo copi qua ti fa vedere sempre gli esempi quindi sei abbastanza guidato come dire non lo vedo complicato come tipo di impostazione prendi la tua pagina la copia e le incolli ed è fatta o prendi il tuo sito ed è fatta molto più interessante poter aggiungere questo codice di installazione in maniera specifica e personalizzata puoi andare a scegliere proprio il punto in cui far apparire questo modulo in diverse diverse forme lo puoi copiare andare a incollare e mettere ad esempio all'interno del tuo sito WordPress se ti interessa approfondire questo argomento trovi una serie di video soprattutto quello che abbiamo realizzato in descrizione lo troverai anche alla fine di questo video quindi ti faremo vedere passo passo come aggiungere questo modulo ma anche un pop up la procedura è molto simile all'interno di una pagina molto utile molto carino molto efficace una volta che l'avrei fatto avrei scelto diciamo il tuo contenuto in questo caso non vogliamo andare a dedicare all'intero sito ci andiamo a mettere il sito di www.automating.com ci andiamo ad aggiungere quello che è il codice una volta che lo abbiamo andare a scriverlo quindi passo 1 pretto la pagina e specifico se questo pop up o questo codice deve essere valido per tutte o solo una pagina ribadisco se vuoi che questo codice valga per tutto il sito lo lasci all'intero sito se vuoi che invece appaia in una pagina specifica lo metti nel secondo modo che abbiamo che è la pagina specifica in questo caso per esempio il codice in memoria lo scrivo www.automating.com slash gratis la pagina della newsletter di cui ti ho parlato prima ad esempio copio il codice lo vado a inserire comunque come faccio a installare i codici e guarda viene scritto uno a uno c'è il modulo di snippet ci sono diversi modi per integrarlo se usi per esempio wordpress e ti ho riparlato di un video specifico questo scopo di questo video invece per adesso è fatta io quello che ti voglio andare a far vedere è tornando su moduli e pop up come creare la stessa cosa ma per un pop up abbiamo visto il modulo vedrai che è del tutto simile troverai il template la cosa carina è che il pop up può essere una barra quindi puoi avere semplicemente una barra in alto o in basso che puoi andare a fare utilizzare può essere un pop up a schermo intero disattiva o attiva le foto scusami le tipologie di template che vuoi può avere uno scivolo può essere fatto a schermo può essere uno slider quindi che appare dal basso in questo caso da un lato o può essere un pop up box ok andiamo a scegliere quella che ci interessa andiamo a scegliere la grafica andiamo a utilizzare andiamo a scegliere questa se la vogliamo andare a vedere in anteprima è questa qui qui c'è la tua call to action in questo caso il pop up può avere gli elementi per esempio di nome utente scusami di nome e mail esattamente come un pop up come ce l'ha questo qui te lo faccio vedere quindi in questo caso gli andiamo a chiedere il nome in questo caso solo l'email gli andiamo a fare un esempio oppure possiamo andare a creare una pagina quindi utilizzare un pulsante come in questo caso che andiamo a sfruttare per portare il traffico da una pagina cioè da questo pop up e dalla pagina che stanno vedendo a un'altra vedi che l'interfaccia interna è del tutto identica l'unica cosa che cambierà è che il messaggio ovviamente potrà essere più grande più piccolo il banner potrà essere più grande più piccolo ci sono degli elementi che puoi modificare come le impostazioni ancora una volta valido per più o meno entrambe le realtà sia una casella pop up sia un pop up quindi puoi cambiare la tipologia se all'inizio quando hai fatto clic ti sei sbagliato o sbagliata puoi andare a modificare le impostazioni puoi andare a modificare la posizione questo appare al centro ma diciamo che tu lo voglia far apparire in un altro angolo non ci sono particolari problemi ovviamente questo si attiva nel momento in cui abbiamo l'opzione esatta perché il pop up di solito appare al centro punto e basta possiamo andare a scegliere la dimensione possiamo andare a aggiungere eventualmente se c'è bisogno di uno sfondo questo sfondo potrebbe essere un media per esempio vuoi un video di sfondo che mentre il tuo pop up è aperto si mostra poi eventualmente puoi mostrare un gradiente insomma puoi fare una serie di attività di personalizzazione ancora una volta se vuoi aggiungere invece degli elementi in più ancora una volta ti stavo dicendo vale sia per il pop up sta venendo un obbrobrio a livello grafico ma mi interessa solo farti capire le potenzialità interessanti di questo strumento se c'è bisogno di aggiungere ad esempio qui un non lo so vogliamo aggiungere le icone dei tuoi social media per qualche motivo ebbene lo puoi fare direttamente così se vogliamo aggiungere un modulo di iscrizione che sarebbe il nome l'email il pulsantino vogliamo andare a togliere questo ebbene andiamo a selezionarlo e lo andiamo a cestinare e lasciamo il pulsante diciamo il modulo di iscrizione invece del pulsante ad ogni modo è davvero talmente tanto semplice che devi solo giocarci nella versione gratuita lo puoi sfruttare puoi andare a vedere soprattutto quello che sono io ti lascio tutti i link in descrizione perché nella versione gratuita hai una serie di vantaggi è una serie ovviamente di chiamiamoli di limite di impostazioni perché è un account gratuito che viene dato tutto così sinceramente schettamente gratis per testare io poi ti consiglio caso mai ti serva di poter fare quel piccolo upgrade perché con una manciata di euro al mese il tuo business decollerà con questa suite di prodotti che ti possono aiutare davvero davvero a rivoluzionare il tuo business e allora che cosa dirti io ti dico che ti abbraccio forte davvero forte dalle canarie ti ho mostrato il tutorial gli esempi i template ma ti avevo promesso degli approfondimenti ebbene se ancora non ti sei iscritto o iscritto a questo canale prima degli approfondimenti ma magari ti interessa approfondire il mondo delle automazioni degli strumenti delle strategie dei tutorial delle in generale figate per mettere il pilota automatico al tuo business ebbene è gratis iscriversi a questo canale attivando la campanellina di modo che youtube ti va a notificare ogni volta che pubblicheremo una nuova figata ma se vuoi invece approfondire il mondo di get response ebbene ti lascio a due risorse una più interessante dell'altra che ti possono davvero aiutare a svoltare e automatizzare il tuo business ciao